Topolino numero 3542 è il primo dei due numeri a cui la redazione di Topolino ha deciso di abbinare un gadget esplicitamente dedicato a Disney 100. Il motivo di questa scelta è sostanzialmente perché la 16 ottobre del 1923 World Hero Disney fondarono quella che è oggi nota come la Disney. Sul numero di cui stiamo parlando adesso e di cui state vedendo l'unboxing è allegato una franco bollo di metallo. Onestamente l'ho trovato un bello oggettino che probabilmente non penso di togliere dal suo cartoncino dedicato. Adesso aspettiamo la statuina di Topolino nelle vesti del personaggio di Steamboat Willie per completare questi festeggiamenti. Inoltre su questo numero è stata pubblicata anche l'ultima storia della serie Once upon a Once in the Future a cui dirigerò un video a parte. Per cui a maggior ragione vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Salute a tutti! Salute a tutti!